Oggi siamo qui al centro di Roma con Claudio Gelini, con gli attivisti e le attiviste di ActionAid per lanciare la campagna Colforo Margherita, la pizza più costosa del mondo. Com'è possibile che questa sia la pizza più costosa del mondo? Purtroppo è possibile, perché se ancora oggi succede che le donne devono chiamare le forze dell'ordine per chiedere aiuto, fingendo però di ordinare una pizza per salvarsi dal compagno di elenco, significa che la pizza non è più solo uno dei cibi preferiti al mondo, ma è un vero e proprio strumento per salvarsi la vita. Quindi vale molto di più, vale i fondi che tutti i governi dovrebbero erogare per prevenire e combattere la violenza di genere. Milioni e milioni di euro mai stanziati, perché la lotta alla violenza contro le donne non è una priorità e non lo è stata neanche durante tutto il periodo della pandemia. E allora noi di ActionAid oggi siamo qui, siamo qui per protestare, siamo qui per strappare simbolicamente il conto della pizza più costosa al mondo, perché vogliamo che questa pizza torni ad essere una semplice pizza. E chiediamo ai governi di fare molto di più per lottare contro la violenza di genere, perché le donne, le donne di tutto il mondo, si meritano di vivere una vita senza violenza. Beh, io come donna, come mamma, come attrice, come attivista adesso anche, mi sento responsabilizzata, perché non dobbiamo mai smettere di chiedere, di urlare, di parlarne, perché più ne parliamo e più cerchiamo di creare una vera attenzione, un vero focus su questa... non è un problema, è proprio una tragedia che si consuma tutti i giorni. Quindi questo è il nostro compito. Io sono qua accanto ad ActionAid per amplificare la nostra voce. Sono molto felice, insomma, di fare questo cammino con ActionAid.